All'Olimpico Juventus a caccia della quinta vittoria in campionato per cercare di approfittare del derby di Roma e avvicinare il primo posto ma il Cesena della prima mezz'ora la mette letteralmente sotto. Giaccherini per Schelotto per Luis Chimenez. Minuto 11 Cesena meritatamente in avvantaggio grazie alla rete del fantasista cileno. Al trentesimo serve un calcio di rigore a giudizio di Romeo fallo di Pellegrino su Bonucci calcio di rigore sul dischetto va Alex Del Piero. Gol numero 180 in Serie A in carriera per il capitano bianconero e a fine primo tempo arriva il sorpasso. L'assist da sinistra da destra per Marchisio cerca Fabio Quagliarella non da scampo a Francesco Antonioli. Gol del 2 a 1 vantaggio Juve che nella ripresa può agire in contropiede minuto 87. Salia Misic ripescato causa infortuni dal limbo insieme a Grosso. Ottima prestazione dei due per gli a quinta. Gol del 3 a 1 finisce 3 a 1 punizione un po' severa per questo Cesena.